sono arrivate le pizze le pizze in sede a che sono arrivate naturalmente abbiamo anche la birra italiana la birra italiana c'è la nuova peronica è buona questa che pizza è? che birra è? è proprio la peronica c'è la tagliata a quattro lati la squale buonasera questa è giusto? questa è la pizza GDC quale è la pizza GDC? questa è una pizza particolare ce la portano a loro? che c'è la ricotta? no c'è la ricotta la ricotta Enzo a lui piace molto la ricotta bravo bravo però manca la steppa il produttore e il consumatore eh infatti la servizio di rosa vediamo invece la pizza del Presidente Presidente come è questa pizza? Conforte Conforte bravo questa è una semidiavola questa è una semidiavola e la pizza QQM? dove sta la pizza QQM? la QQM? guarda questa no 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 questa è la pizza QQM la macchinata mi ha detto va beh la chiudere e non la fai la rappettata ok il cavatappi la cosa è la non tenere il cavatappi la cosa è la va beh è il passaggio vuoi pure messaggio? è un passaggio sono le fondi incidenti praticamente sì no no eccoci qua allora questo è la tavolata ma qui c'è... la fai dicono allora questa tavolata finalmente ci finiamo presidente Presidente, com'è questa pizza? Almeno dall'aspetto, perché non abbiamo... L'aspetto è esquisita. Bene. Gino, speriamo che la prossima volta ci siano più persone. Eh, infatti. No, ma penso che l'ha bagnati già, eh. Tutto qua. E finalmente abbiamo finito le pizze. Guarda via, al bassa potenza. Stiamo belli, sciotti, sciotti. Io, ragazzi, con 250 mili fatto l'aggancio, no? E ora vedo pure lì, qua. E provano ad agganciare i ponti vari. A stomaco pieno i ponti si agganciano meglio, è vero? Sì, è un baronale, no? La radio diventa più potente. Io se voglio trasmettere, invece di comprare il lineare, mangio una pizza. Vediamo chi ci sta, vai. Vai la mano.